Il primo vero test per il Foggia si presenta così la sfida dello Zaccheria domenica contro la Juve Stabia, un primo banco di prova in cui si alzerà l'asticella del rosso-neri di Zeman che sino a questo momento hanno alternato buone prestazioni a qualche blackout, tipo quello contro la Turris o quello del Francioni negli ultimi minuti che ha fatto sfumare i tre punti la scorsa settimana. Il match con la Juve Stabia è la prima occasione per vedere all'opera Curcio e compagni al cospetto di una formazione più quotata nel girone C di Serie C. Sino a questo momento Monterosi, Potenza, Turris e Latina erano squadre candidate alla salvezza, mentre con i campani c'è l'obiettivo condiviso dei playoff. 5 punti per il Foggia che ha raccimolato una sola vittoria, 3 pareggi e una sconfitta. Dall'altro lato l'esperienza di Novellino alla guida delle Vespe che sino a questo momento hanno messo insieme 6 punti in 4 partite, frutto di 3 pareggi e una sola vittoria. Ma un dato è abbastanza importante, la Juve Stabia non ha mai perso ed è una delle 5 squadre nel girone C con questo particolare ruolino. Il Foggia spera di tornare alla vittoria e magari infliggere il primo dispiacere alla Juve Stabia, ma servirà tutt'altra prestazione rispetto agli ultimi tempi.